ciao a tutti e benvenuti sulla biblioteca nel bosco io sono letizia ed oggi organizziamo insieme quella che sarà la mia tbr per questa primavera quindi selezioneremo insieme direttamente dalla mia libreria quelli che sono i libri che più mi ispirano per questa stagione allora innanzitutto io sono andata al piano di sopra dove tengo tutte le mie tbr sul suo palco ad acchiappare due libri che vorrei reinserire in questa tbr primaverile perché perché li voglio leggere semplicemente ed effettivamente forse a livello logico c'entrano di più visto che la primavera è quella stagione in cui la natura si risveglia poi io appunto abito in mezzo a un bosco da qui il nome del canale quindi insomma sono dei libri che forse stavano meglio in questa stagione ma io li avevo infilati in inverno che sono il libro dell'ecologia dell'agribaudo che io ho preso per sanare alcune delle mie ignoranze in merito all'ecologia quindi è un libro che ci spiega in modo semplice come funziona il mondo anche abbastanza lunghetto se vogliamo sono più di 300 pagine vabbè comunque siccome io comunque sia sono abbastanza interessata all'argomento ma poi non mi informo perché sono una testa di vabbè lasciamo perdere allora niente mi sono presa un po di tempo fa questo libro nella speranza di acculturarmi un pochino di più sull'argomento ma poi in realtà nonostante io l'abbia messo nella tbiar invernale non l'ho mai preso quindi vorrei leggermi un pezzettino ogni tanto ecco mi va anche bene non terminarlo entro la primavera questo qui è mi basta semplicemente scoprire cose nuove però poi alla fine mi butto sempre sui romanzi e vabbè vediamo un attimo se questa primavera riuscirò a leggere qualcosa e poi un saggio più canonico della bocca edizioni come si cambia idea di david mcrunney questo è un saggio che parla appunto del perché molte persone sono restie a cambiare le loro opinioni invece altre sono già più propense nei confronti del cambiamento io di questi saggi ne ho già letto uno se niente fosse un narvalo che mi è piaciuto tantissimo e ne ho altri libreria che mi aspettano quindi ho deciso di leggerne uno a stagione però peccato che questo inverno appunto io non abbia letto nulla quindi lo riporto in primavera perché tra tutti quelli che ho scelto che ho in libreria effettivamente mi sembra il più indicato adesso invece come al solito pescheremo i libri direttamente dalla mia libreria e vedremo quelli che mi ispirano di più in uno dei miei ultimi video consigli e naudi ho fatto una specie di fioretto in cui promettevo di leggere un pochino più libri di questa casa editrice magari anche poco conosciuti in modo da avere poi dei consigli da darvi l'anno prossimo per quanto riguarda appunto gli sconti eccetera eccetera e ho poi portato questo fioretto anche per quanto riguarda la casa editrice ad elfi visto che appunto io non so come mai ho tantissimi libri di queste due case editrici ma poi alla fine non ne leggo tantissimi quindi per prima cosa vorrei puntare su questi due quindi scendo giù voi non mi vedrete perché i due scaffali sono lì e scegliamo qualcosina eccomi qua allora sono risorta con otto libri quindi quattro e naudi e quattro ad elfi ciao amore mio c'è l'allo qui che è arrivato scodinzolando allora un attimo però gli devo appoggiare perché se no allora partiamo diciamo con gli ad elfi allora per prima cosa ho guantato un libro che voglio leggere da tanto che secondo me non è particolarmente indicato per la stagione perché forse l'avrei scelto più in estate ma mi ha incuriosito il fatto di averlo visto citato in un altro libro che ho letto poco tempo fa e quindi ho pescato lolita di nabokov non penso che questo libro abbia bisogno di presentazioni lolita è il racconto appunto di quest'uomo che si innamora intraprende una relazione con una bambina alla fine con una ragazzina poi ho pescato la lettera d'amore di Kathleen Shine che è un libro da quel che ho capito dai toni romantici ma cupi una bella libraia un giovane commesso una lettera misteriosa una storia d'amore che seduce subito per il suo humor e la sua acutezza vediamo mi ispira anche perché appunto già non sono propensa alle storie d'amore più canonica i romance più canonici magari queste cose in un periodo primaverile possono ispirarmi un pochino di più a poi ho preso questo perché secondo me sarà un libro esilarante il cornetto acustico di Eleonora Carrington che in realtà mi avete visto citare nell'ultimo book haul perché l'ho preso veramente di recente è la storia di una 99enne una signora anziana completamente sorda a cui viene regalato da un'amica un cornetto acustico quindi improvvisamente questa signora comincia a sentire ciò che succede attorno ma non dice niente a nessuno e così facendo scopre che cosa dicono i suoi familiari di lei appunto credendo che lei non possa sentirli fatto sta che i suoi familiari decidono di rinchiuderla in un ospizio e lei da una parte capisce anche perché si conto di essere molto vecchia però sembrerebbe che non siano molto propensi a farle finire i suoi giorni in pace e praticamente niente all'interno della vicenda grazie a questo escamotage questa furbissima nonnina riuscirà a fregare tutti quanti ma ci sono cose all'interno di questo libro molto grottesche tipo riti satanici tentativi patetici di far fuori le persone ecco quindi da quel che ho capito è un libro estremamente divertente grottesco che non vedo l'ora di leggere e vi dico questa cosa molto simpatica secondo me io ho avuto una bisnonna che adesso non c'è più che è arrivata a 102 anni ed era una signora molto molto furba molto molto arzilla è rimasta anche molto cosciente a livello di testa fino all'ultimo e finché appunto il suo cuore semplicemente non ha ceduto è sempre stata molto furba tanto da fregare spesso e volentieri anche le figlie in tante cose e io quando ho letto di questa trama non ho potuto fare a meno di ricollegare questa signora alla mia bisnonna ecco perché anche lei era un bel peperino e lo è rimasta per tutti 102 anni io ovviamente ho avuto il piacere l'onore di conoscerla anche perché non è venuto a mancare tantissimi anni fa però si è un piccolo aneddoto che ci tenevo a raccontarvi poi per ultimo ma non per importanza un classicone in realtà io volevo leggere dei libri un pochino più particolari meno rinomati per inserirveli poi in un possibile video consigli invece sono andata a prendere delle cose chiacchieratissime l'insostenibile leggerezza dell'essere di milan kundera in realtà io non ho mai ben capito bene che di che cosa parlasse questo libro perché si racconta di una storia ma comunque con tantissimi approfondimenti esistenziali come si può ben immaginare anche solo dal titolo comunque per quanto mi riguarda la ritengo una grossa lacuna letteraria da parte mia e quindi perché non cercare di leggerlo il prima possibile passiamo ora agli Enaudi allora ho selezionato una donna spezzata di Simone de Beauvoir la storia di una rivalutazione del ruolo femminile o meglio di tanti ruoli femminile infatti in questo libro vengono messe in discussione il ruolo di madri di mogli insomma ci sono delle donne che si mettono in discussione e mi sembra il libro giusto per questa stagione vi dico la verità perché mi sa di rinascita ecco non so perché la rivalutazione del ruolo femminile mi sa sempre di rinascita poi siccome io in libreria ho di David Foster Wallace Infinite Jest che è un tumore di 1300 pagine con delle note scritte piccolissime e che comunque vorrei affrontare prima o poi ma di Wallace ho già avuto modo di leggere un libro che non mi è piaciuto allora ho deciso di pescare questa raccolta di racconti di David Foster Wallace per dargli una seconda chance per conoscerlo un po' meglio magari in un contesto un po' più ristretto questo è brevi interviste con uomini schifosi e sono appunto una serie di raccolte di uomini schifosi cioè non saprei come altro dire comunque misogini psicopatici perversi comunque uomini un catalogo di mostri atrocemente normali le voci di un'america stravolta sono estremamente curiosa perché ripeto purtroppo io ho apprezzato in una cosa divertente che non farò mai più il tono ironico di Wallace ma la storia di per sé non mi è piaciuta ma è un problema mio cioè non mi è intrattenuto ma è tutto coerente con quello che ci doveva raccontare Wallace in quel libro ecco semplicemente io non ho apprezzato poi di Donatella di Pietrantonio il famosissimo Larminuta anche questa mi sa di storia di rinascita in quanto parla di una ragazzina di 13 anni costretta ad andare a vivere da delle altre persone praticamente questa ragazza fino ai 13 anni è cresciuta all'interno di una famiglia credendo che questi fossero i suoi genitori e poi scopre che non è così e viene praticamente mandata dalla sua vera famiglia che è decisamente diversa rispetto a quella in cui è cresciuta fino a quell'età almeno così mi ricordo la trama a grandi linee e per ultimo ma non per importanza anche qua un libro che in realtà io vorrei leggere perché vorrei conoscere quest'autore in realtà se tutto va bene potrei conoscere questo scrittore già questo mese attraverso un altro libro però io so di questa trilogia che insomma è un racconto horror ma molto divertente di uno scrittore che si prende decisamente poco sul serio di Joe Lansdale la trilogia del drive-in io ho questa edizione che personalmente apprezzo di più rispetto all'ultima di Enaudi però praticamente appunto parla di una storia assurda e grottesca in cui questi ragazzi due protagonisti in particolare si ritrovano chiuse all'interno di questo drive-in al seguito dell'arrivo di una cometa che tipo sorride e a questo punto si crea una specie di buco temporale in questo drive-in dove loro non possono uscire e nessuno può entrare e le persone chiuse lì dentro sono costrette a sopravvivere con il poco che hanno e allora io so di Lansdale che è uno scrittore molto molto particolare e divertente ho visto un video poco tempo fa di non mi ricordo chi comunque ve lo lascio qui sotto nelle i dedicato completamente a lui e la descrizione di questo personaggio mi ha incuriosito pari che quindi niente ho deciso di approfondire alcune letture sue dal momento che comunque ho alcuni suoi libri in libreria quindi non vedo perché non approfittarne ora passiamo alla selezione di altri libri io torno giù perché ho deciso di partire dal basso perché su ci sono un pochino più thriller che va bene ma magari più avanti mi voglio concentrare più su altro allora ne ho scelti un po sono arrivata praticamente a questa parte di libreria perché intanto mi hanno chiamato e quindi niente nel mentre che parlavo al telefono ne ho approfittato per scegliere allora diciamo che questa parte è un pochino più cupa un pochino più di thriller queste cose che quindi la scegliamo dopo però comunque sia ho scelto un po di libri ne ho scelti 14 quindi più i 10 di prima siamo già 24 ora come sapete le mie tbr sono molto ottimistiche non pretendo di leggere tutto però comunque voglio avere scelta quindi innanzitutto ho preso un saggio che voglio leggere da molto di judy judy ellison se di doyle il mostruoso femminile che parla appunto della condizione della donna in generale io ho anche il secondo in libreria che voglio comunque leggere però intanto direi che potrei anche partire dal primo un altro saggio poi di jocelyn porcher vivere con gli animali un'utopia per il ventunesimo secolo come sapete io sono vegana quindi ogni tanto leggo queste cose questo è un libro abbastanza breve sono neanche 200 pagine e comunque credo che sia un libro interessante da affrontare soprattutto per quanto riguarda comunque la mia filosofia di vita un altro libro che invece voglio leggere e che ho in libreria veramente da tanto se non erro da quasi un anno e mezzo ma nonostante mi attiri tantissimo non pesco mai è luce dalle altre stelle di rika oaki che è la storia di un patto col demonio da parte di un insegnante di musica che per salvare la sua anima deve appunto vendere al diavolo le anime di sette virtuosi del violino sembrerebbe aver trovato una di queste anime in realtà l'ultima che le manca ma viene distratta dalla conoscenza di un'altra donna quindi è una storia lgbt ed è una storia molto particolare bellissima anche esteticamente copertina e tutto questo fa parte degli oscar fabula che vabbè fanno sempre delle copertine meravigliose e in realtà è un libro di cui non ho quasi mai sentito parlare in giro quindi mi interesserebbe molto leggerlo ma ripeto non so perché non l'ho mai pescato eppure in libreria veramente da tanto poi i pesci non esistono di lulu miller una storia che ha del memoir ma anche del giallo molto particolare in cui la natura sembrerebbe quasi vendicarsi dell'uomo infatti il protagonista di questa storia è un famoso tassonomista che praticamente cataloga a migliaia migliaia di pesci ed ha una collezione personale però un giorno un terremoto distrugge questa collezione e come se non bastasse in seguito il suo nome verrà infangato con un'accusa di omicidio quindi è un libro molto particolare non si direbbe neanche dalla copertina abbastanza simpatica di questo libro so solo che niente mi incuriosisce molto poi essendo primavera anch'io ho voglia di provare a leggere un po di storie d'amore e quindi mi sono buttata su tre gocce d'acqua di valentina d'urbano una specie di triangolo amoroso tra dei fratelli che non sono fratelli e ne ho sentito parlare in giro molto molto bene quindi sono curiosa anche perché non dovrebbe essere proprio il classico romance ecco dovrebbe essere comunque un romanzo che vira alla storia d'amore da una storia che dovrebbe essere toccante passiamo a una relazione tossica atti di sottomissione di megan nolan in realtà questo libro lo inserisco proprio perché lo voglio leggere cioè da tanto che mi riprometto di leggerlo e non l'ho ancora fatto e parla appunto di una relazione tossica di quello che si prova quando si vive all'interno di una relazione tossica e tutto quello che comporta appunto mi ispira tantissimo l'ho sentito parlare veramente molto bene soprattutto per quanto riguarda l'immedesimazione all'interno della vita della protagonista quindi curiosissima poi tornando agli enaudi ho deciso di approfondire murakami allora voi dovete sapere che io ho letto due libri di murakami ma nessuno dei due mi ha fatto impazzire quindi avendo altri libri di murakami in libreria ho deciso di approfondire dal momento che in entrambi i casi mi sembrano adeguati per il periodo sto parlando di norvegia wood anche qui siamo all'interno di un triangolo amoroso però in particolare di un ragazzo e due ragazze e della sua incapacità di scelta da quel che so e poi i salici ciechi e la donna addormentata perché perché questa è una raccolta di 24 racconti scritti da murakami siccome io ho timore di non pescare questo di non leggere norvegia wood rispetto agli altri libri che ho scelto altre storie simile a questa che ho scelto allora ho detto va bene ci infilo anche una raccolta di racconti così quanto meno quando la dovrò scegliere c'è lei poi in realtà se non ricordo male ci sono altre raccolte qui dentro quindi sono dettagli però non sono di murakami quindi diciamo che questo è l'alternativa se proprio non dovessi leggere questo ecco oltre al fatto che è uno dei libri di murakami meno citati al contrario di norvegia wood che invece è tanto citato tanto nominato ecco quindi almeno un murakami comunque lo voglio leggere continuiamo con altri due naudi di un'altra collana ancora vi giuro che non lo sto più facendo apposta di scegliere e naudi e poi passiamo a altri quattro libri di cui uno ha un retelling e tre sono invece dei fantasy che voi sapete che sono forse anche più rari dei romance nei miei video ma ci sono e per la primavera mi sembrano perfetti allora per quanto riguarda appunto i due naudi ho deciso di pescare cleopatra e frankenstein di cocco mellors di questo libro si è parlato tantissimo l'anno scorso se non ero nel periodo estivo più che primaverile anche qui parliamo di una storia d'amore di due ragazzi che si incontrano nell'ascensore di un grattacielo a manattan la sera di capodanno non sanno che da lì a sei mesi si sposeranno e andranno a vivere insieme ma quello che appare come un idillio finirà per essere un infelice punto di svolta nella loro vita e in quella dei loro amici più cari estremamente curiosa ho sentito pari di contrastanti ho sentito chi ha detto che è bellissimo ho sentito chi ha detto che non è niente di speciale vedremo e poi ho deciso di affrontare un libro che per me è un ritorno al passato che la festa cominci di ammanniti io questo libro l'ho già letto l'ho già letto i tempi di scuola per colpa di un insegnante che ci aveva costretto a leggerlo quindi io temo che il mio disprezzo nei confronti di questo libro sia semplicemente dovuto al fatto che l'avevo letto su coercizione quindi ho deciso di provare a rileggerlo so essere una storia estremamente grottesca disturbante quindi sulla carta è esattamente il genere che piace a me adesso però comunque un vaggo ricordo è a riguardo a questo libro ma niente mi sono decisa a rileggerlo voglio riprovare e vedere cosa succede in teoria è un libro più adatto per l'estate perché se non erro è una festa estiva tipo in piscina se non ricordo male è però niente quando l'ho visto detto è il momento giusto voglio provare a rileggerti e vedere che cosa che cosa succede potremmo farci magari anche un reading blog sarebbe interessante vedere come reagisco nella rilettura di un libro che in teoria non mi è piaciuto o adesso passiamo al retelling romeo e rosalina di natasha solomons questo libro ha fatto parlare molto di sé appena uscito poi però è andato nel dimenticatoio come tante cose purtroppo è appunto il retelling di romeo giulietta in cui giulietta è stata sostituita da rosalina ma non perché non c'è più giulietta semplicemente perché rosalina sembrerebbe essere la donna che è venuta prima di giulietta quindi prima dell'innamoramento fatale che ha avuto romeo nei confronti della sua amata e a quanto pare all'interno di questo sorta di retelling romeo non è che sia proprio questo stinco di santo anzi sembrerebbe essere il tipico don giovanni che appunto ha approfittato di rosalina che cercherà in realtà di salvare giulietta che è la cugina da questa sorta di brutto ecco quindi molto molto interessata alla lettura è un genere sicuramente completamente fuori dai miei soliti ma vediamo intanto qua la pila cresce va bene che io sono un tappo ma mi è già arrivata a metà coscia allora poi passiamo alla casa sul mare celeste di tj clun io non ho mai letto nulla di tj clun e anche questa è una cosa di cui mi vergogno molto avevo provato in realtà a leggere qualche pagina di questo libro vi dico la verità ma poi l'avevo lasciato lì e non me la ricordo neanche con un colletto vi dico la verità e niente in realtà ho anche il secondo in libreria però intanto partiamo da lui e vediamo un po cosa succede ah comunque magari se vi dico un pochino la trama praticamente parla di questo orfanotrofio e di questo personaggio incaricato di controllare appunto se è tutto in ordine ovviamente all'interno di un orfanotrofio magico ma diciamo che i personaggi che incontrerà in questo ambiente scalderanno un pochino il cuoricino di quest'uomo che dovrebbe essere abbastanza freddo e indifferente in generale a ciò che accade intorno poi il re delle volpi di fiore manni questo è un libro che appunto ho comprato appena uscito e che non vedevo l'ora di leggere proprio in questo periodo perché mi sapevo proprio di primavera parla di una ragazza che al compimento dei suoi 18 anni stufa di quello che sta accadendo intorno a lei prende se ne va incontra una volpe questa volpe le parla e le dice di aiutarla a fare una cosa per il suo re che appunto è il re delle volpi e di seguirla sta qua pensa che sia un'ottima idea e va insieme alla volpe peccato che una volta una volta entrata in questo mondo scoprirà che il re delle volpi non è esattamente il personaggio simpatico che pensava e verrà sottoposta tutta una serie di prove e poi un altro libro uscito quasi in contemporanea no scusate è uscito prima questo però l'ho preso in contemporanea il custode di francesca tamburini un'altra scrittrice italiana se non ero questo è il suo esordio è una storia questa un po alla harry potter style mi sa di questo mi parla comunque di una scuola di magia e dei ragazzi con dei poteri magici all'interno di questo ecosistema magico solo le donne hanno i poteri magici ma si dal caso che il nostro protagonista è appunto un ragazzo che scopre di avere anch'esso dei poteri magici e quindi diventerà anche lui un custode appunto come vengono chiamati coloro che custodiscono la magia quindi passiamo ora direi alla parte sopra della libreria ma non posso scegliere chissà cosa anche se in questa zona effettivamente non c'è tantissimo da scegliere per il periodo primaverile secondo me vediamo un attimo allora già ho trovato questo ma giusto perché è un libro assurdo che voglio leggere assolutamente e se non lo leggo entro primavera so già che comunque se lo trasferirò la tbare stiva sayonara gangster di takashi jenkiro è un libro come ve lo descrivo io questo libro che parla di un mondo letteralmente sotto sopra dove nulla ha senso io questo libro l'ho sentito decantare tantissime volte da matteo fumagalli ed effettivamente leggendo la trama che cosa vi devo dire in un futuro non troppo lontano il mondo è minacciata da una banda di famigerati gangster che sopprimono un presidente americano dopo l'altro una di loro decide di lasciare la ganga per incamminarsi lungo il sentiero dell'amore in compagnia del gatto parlante enrico quarto che beve cocktail a base di vodka e latte e ama thomas man aristotele e cante per puro caso si imbatte in un insegnante di poesia che lavora in una scuola dove se la poesia non funziona devi portarla dal fabbro e farla martellare fino a che non sarà ridotta in mille pezzi tra i due nasce una storia d'amore di poco idilliaca al punto che in un'epoca in cui le persone non hanno un nome decidono di battezzarsi a vicenda e diventare lei nakayami miyuki songbook e lui sayonara gangster ma presto i malvagi gangster tornano alla ribalta e il sogno dai contorni peace and love si trasforma in un incubo un incubo per fortuna di cartone avario pinto e marza pane popolato da killer immortali poeti trasformati in frigoriferi e alieni in vacanza studio sulla terra ma che altro vi devo dire ma cosa altro vi devo dire vi devo dire che io non mi devo più chinare per poggiare i libri perché la pila si è alzata poi andiamo avanti allora si qua tutta roba che mi sa d'inverno di autunno manco qua forse lui si direi che ci sta if we were villains non è colpa della luna la voce mi sta abbandonando effettivamente stiamo al terzo video che registro oggi quindi ci sta di ml rio è un dark accademia che si basa su una scuola dove si studia shakespeare racconta di un uomo che è stato accusato di un omicidio e dopo aver scontato dieci anni racconta la reale storia di quello che è successo a un giornalista no perdonatemi a un detective dovrebbe essere appunto una storia dalle vibes dark accademia in stile donna tarte che come sapete a me non ha fatto impazzire però magari questo mi farà rivalutare il genere chi lo sa comunque mi dà delle vibes abbastanza primaverili devo dire la verità e poi vediamo se riesco a non fare un casino night beach bestia di notte di rachel yoder la storia di una donna che dopo essere diventata madre e dopo aver scoperto le meraviglie del mondo di una neo mamma scopre anche di subire una terribile trasformazione durante la notte e informando si scopre che non è l'unica quindi da qui bestia di notte cioè quindi questa donna che è altro oltre ad essere madre che si trasforma a volte anche contro la sua volontà e che scopre un essere diverso da quello che soprattutto la società si aspetta da lei la donna perfetta la madre che non cede mai che non crolla mai quindi è un modo di vedere la maternità in maniera innovativa grottesca forse sotto certi punti di vista ma decisamente interessante allora io direi che posso contare un attimo i libri e vedere che è caduto tutto che era anche comprensibile perché io non so come potevo pensare che il tutto durasse sono a quota 27 libri posso ritenermi soddisfatta e ne vorrei pescare uno dal barattolo ma non lo farò perché sennò diventano pari e a me i numeri pari stanno sulle balle spese volentieri quindi no rimarranno 27 e va bene così quindi niente questa è la mia tbr primaverile guardo giù perché sono tutti sparsi nel pavimento allora li portiamo insieme al piano di sopra li mettiamo nel loro nuovo posticino rimuovendo appunto quelli invernali che non servono più eccoci qua ciao a tutti questa è la mia scrivania sul soppalco e come vedete sempre nei monthly reading vlog è da qui che scelgo i primi libri per creare la mia tbr del mese dalla donna in nero in qua ci sono tutti i libri della tbr annuale quindi questi non verranno toccati però questi sono i libri che avevo scelto per la tbr invernale quindi questi li devo togliere e li devo sostituire con quelli che intravedete in questa zona qua questi ovviamente finiranno di nuovo in libreria verranno risistemati e adesso semplicemente io di solito crea una bella scaletta devo dirvi la verità siamo molto al limite perché come vedete anche di qui lo sto tenendo perché sennò tende a cadere e la prima volta che avevo fatto questa cosa con i libri invernali questa cosa non era successa probabilmente perché avevo scelto dei libri più sottili anche invece questa volta devo dire che guardandoli nell'insieme ho preso dei bei tomoni quindi probabilmente toglierò lui lo lascerò da parte lo lascerò qua e spingerò quello il più in là possibile perché voi dovete sapere che questa scrivania è fatta ad elle e c'è un buco lì quindi io non posso spingere i libri fino in fondo perché c'è proprio un buco cadono quindi niente comunque vediamo un attimo cosa riesco a non sta accadendo anche questa allora facciamo che questi due li tengo così e il resto bene o male cerco di spingerlo un pochino più in qua ci siamo forse ho trovato la soluzione mettendo i due libri più pesanti lì niente fatto sta che ovviamente già dal mese prossimo la situazione si sistemerà perché toglierò alcuni libri sia da questa zona ma anche da questa quindi riuscirò a far stare tutto la prossima volta però niente questa quindi è la mia zona tbr per questa primavera e niente sono molto contenta comunque dei titoli che ho scelto non ho scelti tanti tutti molto consistenti ma sono soddisfatta detto questo noi ci vediamo la prossima volta fatemi sapere che cosa leggerete voi questa primavera se avete dei programmi e nulla alla prossima e buona lettura a tutti ciao